Noi riteniamo che tutti i contributi formativi e informativi per i pazienti siano fondamentali. Sono tanti anni che si parla di paziente esperto ed è importante che il paziente sia esperto prima di tutto della propria patologia, della propria malattia. Questo per poter ben comprendere quello che gli viene proposto dagli operatori sanitari e dagli specialisti. Naturalmente per poter interloquire e per poter comprendere qual è la via migliore invece che soggiacere passivamente come soggetto passivo alle proposte di cura. D'altra parte la partecipazione attiva del paziente è un concetto di cui si parla da una cinquantina d'anni come minimo in tutti i percorsi possibili immaginabili. Quindi per quello che riguarda la gestione della propria patologia e per chi invece svolge un'attività sociale nell'ambito delle associazioni di volontariato, delle associazioni di pazienti per poter essere di aiuto alla comunità intera. Tutti i contributi che vengono da qualsiasi parte arrivino sono benvenuti e naturalmente è necessario che gli interlocutori facciano proprio quel motto che è uscito dal seminario globale di Salisburgo nel 1998 e che diceva Nothing about me without me, niente su di me, senza di me.